Valentina viso vale occhi verdi e carnagione rosea è giunta a noi con un capello un po' disidratato e un colore di un dorato molto intenso il desiderio era quello di rimettere in energia il capello e schiarire molto di più per avere un'immagine più estiva sempre su toni dorati ma molto più chiari il percorso di bellezza su misura che le abbiamo effettuato è stato un blonde experience abbiamo schiarito ristrutturato e tonalizzato con un biondo chiarissimo leggermente dorato per quanto riguarda il taglio abbiamo rinfrescato i perimetri e dato leggerezza alla forma per riottenere volumi che oramai si erano smarriti dal peso della misura